Grazie. 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 Questo l'ho preso quando, diciamo, il bordo esterno, cioè quel bordo era già entrato, già stava un po' dentro. Ti sei munito tutte le mie dispense. Eh sì, è una strappettura. Vabbè, 16,58 pare che voglia essere un'unica misura perché i contatti sono leggermente rifiutati dal sistema oggi. Abbiamo quello che ci serve. Grazie.